Dina Carinci, comunque vadano le cose, sei entrata nel Consiglio Comunale con il Movimento 5 Stelle. L'esperienza che abbiamo potuto vivere in questi giorni è stata magnifica. Il risultato è stato fantastico, sicuramente una grande soddisfazione per il risultato personale, ma anche per quello politico, perché basto sta cambiando, è evidente. Il Movimento ha avuto il 20% dei voti e questo è un segnale estremamente positivo. Se è la tua prima esperienza politica, per cosa ti batterai adesso che siederai nel Consiglio Comunale? Mi batterò finché siano i cittadini a governare. Questo è quello che mi preme di più. Noi dobbiamo ascoltarli sempre. Dobbiamo ascoltare le loro istanze e soprattutto le loro necessità. Non è una banalità quella che dico. Purtroppo spesso le richieste dei cittadini vengono disattese e allora la nostra attenzione come amministratori di questa città si deve focalizzare proprio su di loro e sui loro bisogni. Grazie a tutti.